La tematica che stiamo trattando in questa giornata e i dati che sono stati forniti è di particolare interesse per Confartigianato e per le imprese che rappresentiamo. Il motivo è semplice, i ragazzi che escono dai percorsi di istruzione e formazione professionale sono poi quelli che vengono per lo più assunti nelle imprese artigiane. Chiaramente ci sono anche altri percorsi di istruzione e di formazione che sono interessati, sono gli istituti tecnici, gli istituti professionali, ma in modo particolare i ragazzi che escono dall'istruzione e formazione professionale rivestono per noi un interesse particolare anche perché non emerge in modo chiaro dalla ricerca perché è stata fatta a distanza di tre anni e quindi indica un basso tasso di lavoro autonome, lavoro imprenditoriale, ma è troppo breve il tempo di indagine perché poi molto spesso questi ragazzi poi aprono una propria impresa o si mettono in proprio e devo dire che molte delle qualifiche dei percorsi di istruzione e formazione professionale sono poi anche le qualifiche che consentono l'accesso alla professione e l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, in alcuni casi. Quindi rispetto alla tematica di questa mattina il nostro è un interesse particolarmente sentito. Devo dire che nel mio intervento prenderò spunto dai dati che ho ascoltato questa mattina e un dato mi ha colpito in modo particolare. Questi ragazzi sono soddisfatti del percorso che hanno fatto, soprattutto ovviamente ed evidentemente nel momento in cui sono giunti a qualifica, ma la cosa che mi ha particolarmente colpito è che c'è un tasso molto alto di coerenza fra il percorso che hanno seguito e il lavoro che stanno svolgendo. Un tasso alto di coerenza che gli fa anche dire che sono soddisfatti del proprio lavoro. E' qualcosa di cui dobbiamo tener conto, soprattutto perché voi sapete spesso Confartigianato ha utilizzato i dati Excelsior Union Camera del Ministero del Lavoro proprio per dire che c'era un forte mismatching fra quella che era la domanda di lavoro e l'offerta di lavoro. Anche in un momento di crisi dove obiettivamente l'offerta di lavoro e le richieste delle imprese sono sicuramente diminuite, comunque si percepisce questa distanza. E quindi vedere che ci sono dei percorsi che invece hanno una forte rispondenza sul mercato del lavoro, come dire, fa piacere e fa comprendere che se agiamo su alcune leve e quindi su alcuni strumenti che dal nostro punto di vista andrebbero potenziati, si può lavorare perché appunto ci sia anche un maggior avvicinamento fra quelle che sono le esigenze del lavoro e quelle che sono le esigenze delle persone. Uno di questi è obiettivamente l'orientamento. Cioè noi riteniamo che sia fondamentale orientare al di là delle propensioni, delle attitudini personali, anche orientare a quelle che sono le richieste del mercato del lavoro. Ci vuole consapevolezza e soprattutto qui siamo di fronte a dei percorsi peraltro anche brevi nella loro estensione temporale, ma obiettivamente spesso ci sono anche percorsi molto impegnativi rispetto ai quali bisogna, diciamo, avere la percezione di quelle che sono poi le possibilità che si hanno nel momento in cui si esce. Non perché, come dire, bisogna precludere le persone di queste scelte, ma perché probabilmente su questo ci vuole, come dire, maggiore consapevolezza. Mi ha colpito anche il fatto che i ragazzi che fuoriescono da questi percorsi hanno poi un contratto di apprendistato. Quindi significa che, ed è un altro dei temi molto cari alle imprese artigiane, significa che comunque c'è una sorta di prosecuzione tra il percorso di istruzione e formazione professionale e l'apprendistato che per noi è un contratto di inserimento stabile, ma soprattutto un contratto che alterna momenti di formazione a momenti di lavoro. Quindi si prosegue in un percorso di alternanza scuola-lavoro che dà appunto l'evidenza comunque di determinati dati positivi. E per quanto riguarda, sempre per toccare un po' quelle che sono le cose che ho sentito questa mattina, l'altra cosa importante sono il perché sono soddisfatti. Sono soddisfatti perché obiettivamente le metodologie che vengono utilizzate sono metodologie innovative, sono delle metodologie di laboratorio, sono delle metodologie che vedono anche proprio l'esperienza in azienda come momento formativo all'interno del percorso. Ed è fondamentale. Cioè qui stiamo parlando di momenti di incontro all'interno di un percorso che però dovrebbe essere assolutamente incentivato, cioè dovrebbe essere preso come buona pratica anche per tutti quanti gli altri percorsi. Cioè è importante che ci sia un precoce incontro proprio perché l'aspetto teorico, l'aspetto pratico possa, come dire, trovare una sintesi ma all'interno di un percorso di istruzione e di formazione. Dico altre cose rispetto a... Io credo che i dati che abbiamo ricevuto questa mattina evidenziano degli elementi di positività e comunque un percorso importante che è stato anche, che ha visto la sua, non conclusione, cioè non è il termine giusto conclusione ma nella definizione di quelli che sono i profili delle qualifiche e dei diplomi a livello nazionale. E quindi da questo punto di vista c'è necessità di rilavorare su quelle qualifiche e quei diplomi ma sicuramente rappresentano qualcosa che, come dire, è un quadro di unitarietà che ci fa ritrovare appunto una maggiore unitarietà su questi temi che sono fondamentali. L'altra cosa che vorrei dire e sulla quale è molto importante che ci spendiamo due parole è rispetto al finanziamento ma soprattutto rispetto all'esigenza del quarto anno. Noi spesso affrontiamo i nostri direttivi di categoria e l'esigenza che ci manifestano maggiormente è sempre di più, soprattutto in alcuni settori, e cito in modo particolare il settore del benessere, di avere l'attivazione del quarto anno perché spesso in assenza del quarto anno non si ha quel livello EQF necessario per poter, come dire, lavorare su alcuni tipi di settori. Spesso la stessa impresa vuole aderire a degli standard europei su determinati tipi di strumenti strumenti da utilizzare nel proprio lavoro o di trattamenti e se non c'è quel tipo di qualifica purtroppo ne rimane esclusa. Quindi da questo punto di vista è molto molto importante che si lavori per il quarto anno anche perché il quarto anno, e rientro qui nel concetto di qualità, qualifica ancora di più. Cioè il quarto anno dà la possibilità poi di fare l'anno integrativo e di arrivare agli ITS e agli FTS. Perché l'altra cosa importante, perché un percorso sia, tra virgolette, appetibile, è che non abbia una, diciamo, che non si concluda, cioè che dia la possibilità all'interno del percorso di poter proseguire e di arrivare anche a dei livelli elevati di qualificazione. Ovviamente in linea teorica di qualificazione tecnica, perché stiamo parlando comunque di istituti tecnici superiori o di IFTS, non si escludono gli altri percorsi, ma obiettivamente darebbe molta gamba e molta forza. Grazie. Grazie.